In tema di vigilanza per far rispettare le regole contro il coronavirus serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Lo diciamo perché praticamente si è passati dalle città assediate da polizie e carabinieri all'assenza di controlli adeguati a far rispettare le distanze. Contro gli assempramenti che si registrano ovunque, insomma, c'è bisogno della presenza dello Stato. Quanto è successo a Favara con le persone in fila alla posta, senza mascherina e per giunta vicine da sembrare incollate tra loro, è l'esempio di come ancora non si riesca a comprendere la gravità del momento. A Favara sono dovuti intervenire i carabinieri, così come a Palermo e a San Leone. In centro come in periferia ci si lascia andare stupidamente, come se nulla fosse. Purtroppo spiegare semplicemente quali sono i rischi non serve e come parlare ai sordi. E non sono i giovani facilmente attaccabili a non usare gli accorgimenti, sono persone di tutte le età. Sono questi i momenti in cui davvero serve la presenza dello Stato per fare la giusta prevenzione.